Nel 2022 l'Italia sarà il paese più colpito dalla carenza di personale nel settore turistico. Stando ad uno studio del Consiglio Mondiale per i Viaggi e il Turismo, quest'anno mancheranno all'appello 250.000 lavoratori. Un posto vacante su sei non sarà coperto, ad essere colpiti soprattutto il settore dell'ospitalità e le agenzie di viaggio. In totale saranno 1.200.000 i posti di lavoro vacanti nell'Unione Europea. In Francia ne resteranno scoperti 71.000. Tra i settori più colpiti l'aviazione, con quasi un posto su tre vacante. 128.000 le posizioni scoperte nel Regno Unito. Ristoranti e alberghi faticano a trovare personale, ma il governo britannico finora si è opposto all'arrivo di lavoratori temporanei dall'estero. Misura che è stata adottata invece da altri paesi, tra cui il Portogallo, in termini assoluti il meno colpito dalla carenza di personale tra quelli presi in considerazione. Qui mancheranno all'appello 49.000 lavoratori. Lo studio include anche alcune misure per affronteggiare il problema. Facilitare la mobilità dei lavoratori con una politica dei visti più favorevole. Consentire il lavoro flessibile a distanza. Adottare soluzioni tecnologiche e digitali innovative. Offrire formazione, programmi di aggiornamento e benefici per i dipendenti. Solo così, stando al Consiglio Mondiale per i Viaggi e il Turismo, sarà possibile attrarre un maggior numero di lavoratori.